Signori, se volete, mi trovate su Twitch dal venerdì alle 18 e poi dal sabato al martedì dalle 3 in poi durante la giornata per fare prove con voi, vi aiutiamo ad andare sul faro ragazzi Quindi ragazzi cercate il canale qui sotto, vi lascio appunto qui il link in descrizione e ci becchiamo anche sulla piattaforma viola Bella raga, come state se ormai? Bentornati al mio canale per cui se noi stessi in due piccola intro prima di iniziare Ragazzi abbiamo matchato durante la live di ieri mentre stavamo giocando con un ragazzo di qua della chat Rezzo eh, per chi non lo conoscesse uno streamer inglese, credo sia inglese, forse si E comunque a 2,60 circa nelle prove quindi uno bello tosto per quanto sia proprio abusi del controller Ragazzi è veramente tosto da giocarci contro E vi lascio questa bella partita, non vi spoilerò niente ma vi assicuro che è una bella chicca di intrattenimento Lasciate un bel like, una bella iscrizione qua sotto ragazzi per continuare a farmi crescere E ci becchiamo in un prossimo video e anche nel prossimo live ovviamente ragazzi, come sempre, GG Sì dai dai, dai Rezzo? Non è lui Sì è lui, il mono TLV inutile Non possiamo pusharlo, eh sì c'è anche uno in team con le monarche, è grande Lo spettro non ti può aiutare qui Doveste? Affidati alla tua squadra e abbatti gli atti Stavo per morire di coltellino da lancio immagino Ah no, coda, 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 non ci provare neanche No, c'è le monarche Eh ma c'è, stai fermo Eh, ero, ero Eh, sono morto io Dietro, no, no, ma Perché ha un vantaggio di connessione così forte? Ah ma c'è Rezzo Ma che ci fa Rezzo contro? Oddio Ma è da solo? No, sì, da me è da solo C'è sta carriando però Eh, sorry regà Lui c'è la TLV, quindi è fortissimo Cioè vado in bagno e torno e c'è Rezzo contro No, 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 stai, stai, stai Dove andare? Però lo prendo, lo prendo Ok? No, è fermo, è una roccia, è una roccia Mi sta usando il Nembo? Mi va troppo noia No, no, la delazione Mi dà troppo noia Gioca fermo Mi fa fastidio Sono one, dietro Mi dà proprio fastidio come gioca Va bene Dai, 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 su Eh ma è bravo, eh È uno che non missa mai col controller Quando gioca così secondo me non è bravo, certo Eh lo so, però Eh poi è un paio di abuso Cioè ci sta Surtà sul vantaggio quello che ha Timiamo? È Alemonar Quello là È Alemonar Eh Rezza quello dietro di noi Ok, ok, ok Ha tirato una nade Non ho da voglia Ah, vabbè, vabbè Le monarca Mi ha preso in... Ah, annaccio Sono one io Certo C'è dietro, zoomy Alla Dai, ma che sfiga Beh, vabbè, vabbè No, non puoi far niente Alt-Lv è proprio un'arma più forte di qualsiasi cosa Cioè non... Sollevi Non hai possibilità di vittoria contro quell'arma Va bene, va bene Dovete pushare, raga Quando... Tengo... Cosa di distraire Cosa di distraire Non morire, non morire Quando non puoi morire Vabbè Bravo, ste Bravo Preso su qua Eh, va da noi Dovete pushare, ragazzi Cioè dobbiamo pushare Un e one Ok, le monarca Bravo, ste Boh, che altro callo rato? No, non è monarca, eh Lui Questo... Questo spawn dobbiamo stare un po' fermi Siete in svantaggio Cioè, ha fatto lui Sì, ma il problema è che Se pusho c'è le monarca Che mi domina Provare a prendere rezzo, zoomy Eh, sì, un attimo Girono da destra Neide, non è Rezzo Alla, chi che sfiga, fra Ho messo la scudo È da solo, zoomy È andato, andato, andato Va bene, bravo Sono morto Rezzo è morto, però Dove tarmi una mano, raga Il resto è sotto a sinistra, tipo No, no, no La Neide, la Neide Mi ha teletrasportato Mi ha teletrasportato No Mi ha teletrasportato qualcosa Dall'altra parte della barricata Titano possiamo farcelo easy Va sempre solo Hanno i martelli What? Come fa per i martelli, scusa Quanto ce l'abbiamo, noi? Occupato Body? È one shot Quanto gli durano, fra Quanti ne ha Bravo L'ultimo Io sono prendibile Altra super Altra super E stimiamolo, zoomy Esplicemente È da sotto Hanno fatto due super No, rezzo è quello che vuol dire No, rezzo ha fatto la Sei switchato per avere il coltellino No, sei switchato per rifarsi la super Vedi, sì Con gli hs ti rifai la super Sono un fondo mappa E' un fondo mappa, vero loro? Che rezzo è a fondo mappa con lo sniper Sì Sono tre a fondo mappa Non posso andare Non posso andare Sulla mia luce No, sta restando No È lì, è lì Vabbè, ve l'ho fatto Bravo Mi sono switchato dal palito Non potevo non morire, fra Ero chiuso da due Ho fatto una mossa Ho fatto una mossa a 3000 IQ Porco tu Abbiamo le super, vero? Due super Loro ne hanno una Fanno la gold di loro Come vuoi giocarlo? Come lo giochiamo, raga? Oh, posso provare a pushare Occhio al cecchino Io potrei andare da sotto in realtà Zoomy, se poppi la faccio anch'io da qua Bello? No, no Nel mio modo di blu È otto È qua da me, lo vedo, lo vedo Mezzo è sotto Ah, devi dare la mano a lui Devi dare la mano a lui Devi dare la mano a lui È fra la golden gun Resta un minuto Sei l'ultimo rimasto Valle scapparli Calmo, sei Te lo fai, te lo fai Calmo, calmo Primaria, primaria Render race lui Ah, la No, perché dentro Bravo Calmo, calmo, calmo Eh, stiamo fuda, stiamo fuda Sì, sì, sì Calmo, calmo Ho capito, ho capito Non puoi mettere il coso Ah, ma le monarch Eh, sì Per quello ti dico calmo No, ste Morte e morte Ah, let's go Let's go Let's go Che culo di merda Per una volta Merdaccio Oh, dio GG GG, 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 GG Mamma mia ragazzi Che roba Che roba le monarch Che roba Che roba le monarch Che roba le accessing Che roba le dismiss Che roba le